Com'è la danza di ogni giorno di mattina? Abbiamo iniziato così, quasi per una prova, per scherzo, ed è data finire che fino a giugno danzeremo e con gioia. A portarci si diverte, si sta in compagnia, si lasciano fuori dalla porta i problemi della famiglia, si armonizza, si socializza, si canta, si balla, si prende il caffè. Ciao! E ciao! Dietro, com'è trovarsi per danzare? È una buona occasione per rinvigorire il fisico e la mente. E allora, gli incontri qui a Contaro di Danza Terapia assicurano intensità e serenità per molti mesi dell'anno. È vita! Com'è tornare dopo un po' a danzare con noi? E' molto molto bella. E aveva la bella, ovviamente. Ha lasciato anche i sieri. Ah, i miei anni. No! Eh, guarda, c'è stata una gioia. Si passa un'ora che si dimentica tutto. E' una cosa bellissima, rilassante, che è il modo per stare tutti in compagnia. Ogni giovedì è una cosa nuova, diversa, si sta bellissimo in compagnia, una maestra meravigliosa. E continuiamo così. Quindi, però, poco per volta, mi ha raggiunto di muoversi in modo prodotto e adatto alla nostra età. Grazie. Com'è danzare insieme a questo bel gruppo? E' molto bello. Ringrazio anche il Comune che ha organizzato questa cosa per noi, per tenersi fuori dalla casa e stare con te, Mareline. Cosa ci dici di questa danza? Sono molto contenta di partecipare a questo gruppo. E' molto leggero, coltogente questa danza. E' bello danzare con voi, grazie a tutti. Eh, grazie. Grazie. Grazie a voi. Allora, ci vediamo giovedì prossimo? Sì. Ciao.